amici dei profumi amici di fabrizio benvenuti o bentornati su profumizio oggi parliamo dei profumi di eterea eterea un marchio di cosmesi cosmesi naturale che ha lanciato nel corso degli anni due linee di profumi una è uscita se non mi sbaglio due anni fa invece una è uscita quest'anno cominciamo a parlare della vecchia collezione io della vecchia collezione avevo preso che si chiamava over the fragrances questo cofanetto ve l'avevo presentato un po di tempo fa durante il calendario dell'avvento però ne avevo parlato un po velocemente invece queste fragranze devo dire che mi sono piaciute una l'ho anche comprata in full size il cofanetto dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 40 euro e anche la full size più o meno è intorno a quel prezzo è un 100 ml quindi insomma dei prezzi abbordabili in questo caso appunto abbiamo delle mini size che sono ve lo dico da 10 ml quindi abbiamo un 40 ml totale queste sono le bottigliette quella che manca è quella che ho comprato in full size e adesso vi descrivo un po queste fragranze questa prima collezione appunto mi era piaciuta non sono dei profumi super originali però buoni un buon rapporto qualità prezzo buone prestazioni uno poi appunto mi è piaciuto particolarmente e l'ho acquistato iniziamo da deepest floral questo l'ho finito a tra l'altro questo si può aprire questo è un profumo secondo me molto estivo molto gioioso in cui domina la nota del tiare infatti le note sono in testa tiare nel cuore ilanghi langhe cocco e di base gessomino indiano infatti mi ricordo che l'ho utilizzato non la scorsa estate ancora quella prima un buonissimo profumo che mi richiama questi scenari vacanzieri sa proprio di crema solare dove si sente molto appunto il cocco e poi la nota di questo fiore esotico il tiare il li langhi langhi da una grande cremosità è un buonissimo profumo molto piacevole molto anche duraturo non a tutti secondo me può piacere d'estate perché abbastanza cremoso un profumo sostenuto però buono appunto l'ho usato tutto e mi è piaciuto vabbè 10 ml si fa presto ad utilizzarlo poi quindi la mia quantità di spruzzi però davvero buono se vi capita in qualche rivendita di vederlo soprattutto magari ci sono parafarmacie che vendono eterea provate a sentirlo se amate comunque i profumi tropicali al cocco e tiare molto cremosi molto densi che però appunto fanno subito estate e questo è deepest floral quindi questa profondità dei fiori effettivamente appunto anche se dal nome sembrava un profumo molto fiorito invece è un profumo che ha degli accenni fioriti ma è sa molto di cocco secondo me è di tiare buono un profumo solare allegro questo è deepest floral poi l'altro profumo vaniglia for real un profumo vanigliato in questo caso un pochettino più invernale le note di testa sono assoluta di vaniglia la nota di cuore caramello la note di base e ambra grigia una vaniglia molto buona molto caramellata leggermente gourmand infatti il nome vaniglia for real farebbe pensare a una vaniglia molto naturale invece c'è questo questo tocco gourmand della del caramello che comunque secondo me è il principale protagonista poi questa base di ambra grigia non si sente particolarmente secondo me però lo fa grappare bene alla pelle e ha delle buonissime prestazioni buono un profumo la vaniglia molto piacevole un pochettino gourmand qualcuno lo paragona a vanilla absolute di montal si ha qualcosina però non li trovo così somiglianti comunque è una buona vaniglia low cost che potrebbe ecco trattarsi di un profumo di nicchia buona anche questa comunque promossa poi abbiamo whisper and rouge questi desideri in rosso in questo profumo come dice anche un pochettino il nome come fa presagire sono protagonisti i frutti rossi infatti in testa abbiamo more fragolina di bosco e anche arancia rossa nel cuore nel cuore mughetto tè verde gessomino egiziano e ciclamino in base muschio di quercia sandalo assoluta di vaniglia e storace allora quello che sento principalmente in questo profumo sono appunto i frutti di bosco un profumo molto fruttato che però poi diventa molto arioso molto pulito grazie appunto queste note di tè verde di muschio che comunque lo lo alleggeriscono molto è un profumo molto piacevole secondo me per la primavera estate è un fruttato anche in questo caso non grido al miracolo non è un profumo originalissimo però è davvero comunque piacevole perché appunto queste note abbastanza toste della fragolina di bosco e della mora sono ingentilite dal tè verde che sento molto dal muschio e da questa base anche di sandalo è un profumo molto buono un profumo che richiama proprio la bella stagione piacevole da indossare di giorno perché appunto è dolce ma anche fresco questo qui viene suggerito anche con un vestito rosso è un sussurro magnetico vestito di rosso però effettivamente questo profumo richiama proprio al colore rosso quasi un bosco un bosco perché appunto c'è questa parte muschiata dove crescono queste fragoline queste more molto piacevole dolce anche questo buono poi quello che ho comprato in full size vi faccio vedere la scatola che è questa si chiama sugar inside vi faccio vedere la boccetta quindi abbiamo detto il prezzo intorno ai 50 euro questo profumo secondo me è il più originale e poi è un profumo che ha queste note insomma molto molto particolari infatti ha come note di testa note di frutta essiccata e latte la note di cuore è mousse di latte la nota di base è latte quindi è un profumo che sa di tazza di latte secondo me è leggermente speziata anche se non vengono dichiarate le spezie e anche un pochettino appunto tostata c'è questa frutta secca che però non si sente chiaramente però gli dà quasi un'atmosfera un pochettino tostata sembra quasi un bel latte caldo con una spolveratina di noce moscata è un profumo molto piacevole molto invernale anche se non è un profumo pesante invadente soffocante però un profumo che secondo me dà il meglio di sé durante le stagioni più fredde è un profumo che sa di latte che mi piace molto ho alcuni profumi appunto con questa nota alcuni magari ho avuto modo di provarli in decant perché comunque sono dei profumi molto costosi di nicchia questo ha un prezzo abbordabile e chi ama i profumi gourmand con il latte secondo me è molto piacevole dolce, cremoso appunto leggermente tostato e speziato un bel latte una bella tazza di latte caldo zuccherato però ecco secondo me non vira tantissimo al gourmand è dolce ha anche queste note alimentari però non mi fa venire in mente qualcosa di mangereccio non mi fa venire che ne so io ho l'acquolina in bocca richiama proprio questa atmosfera un po' invernale dove magari si è sdraiato su un divano e si beve una tazza di latte quindi è un po' difficile da descrivere diciamo che è un gourmand non gourmand particolare molto buono secondo me appunto anche originale anche paragonato ad altri profumi con questa nota del latte molto buono anche questo se vi capita in qualche negozio di vedere eterea sentitelo questo senz'altro ecco è da sentire perché è molto particolare gli altri potrebbero essere anche dei blind buy perché il deepest floral è comunque una fragranza al tiaree molto morbida potrebbe ricordare un po' il tiaree di vroché il vaniglia for real è una vaniglia caramellata molto piacevole ma molto diciamo classica e il whisper in rouge è un fruttato però pulito molto fresco molto arioso non assolutamente pesante questo è un latte particolare un po' appunto tazza di latte ma un po' anche potrebbe essere un bagnoschiuma al latte un profumo particolare da sentire difficile da descrivere e questo è sugar inside questa era quindi la prima collezione di eterea che è uscita lo scorso anno che si chiamava over the fragrances ora passiamo alla collezione di quest'anno i profumi che eterea ha lanciato quest'anno nel 2024 erano presenti ad exans anche sono tre candidissimo skin care routine e first vaniglia of the day anche in questo caso c'era presente un cofanetto sempre intorno ai 40 euro tipo questo in cui c'erano tutte e tre le fragranze se non mi sbaglio da 15 ml io però insomma mi sono fatto catturare in particolare da uno e poi ho chiesto l'ho comprato online l'ho comprato in blind buy quindi non l'avevo sentito ho chiesto poi di mandarmi anche i campioncini degli altri due per poterli testare adesso me lo sto sentendo perché l'avevo spruzzato prima comunque diciamo sono tre profumi piacevoli due mi hanno colpito molto uno infatti l'ho acquistato in taglia grande e il terzo diciamo un pochettino di meno partiamo dal profumo che io ho acquistato in taglia grande quindi siamo un prezzo intorno ai 50 euro però poi ci sono spesso degli sconti su eterea quindi io l'ho pagato meno poi tra l'altro forse no l'avevo no mi sbaglio l'avevo comprato sul loro sito perché appunto mi ricordo che avevo chiesto i campioncini degli altri due questo è candidissimo un profumo che come dice il nome è un'esplosione di canditi vi leggo le note sono accordo di limone accordo di limone candito arancia candita e cedro candito nel cuore a crema pasticcera e rum nel fondo assoluta di vaniglia questo me lo spruzzo qui è un profumo molto piacevole molto cremoso molto avvolgente buono un profumo gourmand che ha qualche diciamo somiglianza con il devotion di dolce gabbana però senz'altro questo è più gourmand mentre il devotion è molto piacevole è comunque un profumo che immagino è indossato anche d'estate è leggero arioso questo è abbastanza gourmand si sentono bene insomma anche queste note boozy di rum questa assoluta di vaniglia questi canditi appunto molto presenti è un profumo buono secondo me appunto può dare il meglio di sé durante la stagione più fredda ma anche in primavera insomma fino a quando non arriverà un caldo bestiale secondo me è piacevole da utilizzare tra l'altro questo profumo questa è una chicca che che vi do è un'alternativa lo costa al profumo di Milano fragranze che io ho che si chiama panettone un profumo che purtroppo costa 150 euro quindi ha un prezzo abbastanza importante questo insomma 100 ml ve la cavate con meno di 50 euro quindi se vi è capitato di sentire panettone e vi è piaciuto questo è un'alternativa diciamo un po' più low cost un profumo appunto che sostanzialmente sa di crema pasticcera e di canditi appunto è molto piacevole anche utilizzato adesso che ci sono un pochettino le temperature alte io non lo sento soffocante quindi penso di utilizzarlo fino proprio all'arrivo del caldo ecco rispetto a panettone forse un pochettino più arioso però panettone ecco a onor del vero è un pochettino più complesso anche delle sfumature un po' speziate questo è un profumo gourmand semplice che penso possa piacere a tanti visto anche il successo che ha avuto Devotion anche questo vi direi di provarlo perché appunto essendo un profumo gourmand magari può non piacere a tutti secondo me però a una grande parte di persone può piacere è un profumo che comunque quando lo indossate vi dicono che sapete di buono insomma riceve complimenti si sente ha una buonissima durata nelle prime ore anche una bella proiezione poi diventa skin scent però volendo per fortuna perché sennò altrimenti sarebbe troppo pesante buono comunque gli agrumi si sentono proprio fino alla fine non abbandonano mai il profumo quindi è piacevole questo è candidissimo che ho comprato quindi in full size gli altri due profumi sono skin care routine che devo dire che mi è piaciuto veramente molto questo skin care routine ha come note di testa detergente viso come note di cuore tonico siero e contornocchi come note di fondo crema idratante queste sono le note diciamo così un po' inventate insomma da eterea ma rendono bene insomma l'idea di questo profumo che sa proprio di del rituale della skin care quando ci si lava il viso magari si usa anche un latte detergente un tonico si mette la crema si mette un contornocchi e tutti questi profumi di solito molto delicati profumi di pulito leggermente fioriti si mescolano assieme e l'idea che dà questo profumo è proprio questa un profumo pulito però un pochettino dolce infatti utilizzandolo è venuta fuori un pochettino questa nota un pochettino dolce che diciamo al primo spruzzo non si sente almeno sulla mia pelle viene tanto fuori infatti secondo me un pochettino assomiglia a grandi linee a olimpea di pacco rabanne non so perché mi ricorda un po' quel profumo quindi un profumo fiorito anche abbastanza importante però crevoso molto piacevole che io amo molto appunto le note diciamo tra virgolette inventate da eterea sono queste le note reali che vengono poi comunque sempre riportate da eterea sono bergamotto limone mandarino fiori d'arancio e mirtillo nel cuore gelsomino peonia gardegna e mimosa sul fondo ambra vaniglia tuberosa e muschio bianco diciamo che nell'insieme secondo me l'apertura grumata non si sente molto parte subito diciamo molto cremoso io sento tanto il gelsomino un gelsomino cremoso molto piacevole accompagnato sì da altri fiori bianchi che sulla mia pelle io che non li amo molto comunque spiccano molto io quando indosso dei profumi al gelsomino quando magari li testo è una nota che sulla mia pelle risalta molto me la sento tutto il giorno anche il giorno dopo e questo devo dire che almeno su di me ha veramente una buonissima durata però diciamo il tutto è un po' stemperato da queste note del fondo che sono cremose pulite il sandalo il muschio bianco una punta di vaniglia si sente mentre l'ambra secondo me no è un profumo che sa di pulito quindi di un buon latte detergente leggermente fiorito una buonissima crema dà proprio insomma questa idea le note appunto non spiccano particolarmente io ci sento soprattutto il gelsomino però il gelsomino nella sua declinazione più cremosa assolutamente non disturbante questo è un profumo che mi piacerebbe provare magari in una taglia un pochettino più grossa il 100 ml non lo so però il 15 ml se dovesse trovarlo ci farei un pensierino per il momento appunto lo vendono solo nella box però spesso sui canali di usato si trovano anche sciolti mediterò mediterò perché appunto mi è piaciuto questo è un profumo perfetto per andare al lavoro un profumo da giorno un profumo che sa anche di pulito che è piacevole da usare per esempio anche dopo la doccia per prolungare questa sensazione di pulito e poi vorrebbe ricordare sul fondo non mi ricordo più dove ho spruzzato dovrebbe un po' ricordare sul fondo una crema avvolgente dolce molto idratante buono molto carino abbastanza originale da anche questo da sentire anche se penso che questo sia un profumo che possa assolutamente piacere al 99% delle persone passiamo poi all'ultima fragranza first vaniglia of the day una fragranza che mi era molto piaciuta quando l'ho sentita l'ho sentita ad ex ans l'ho spruzzata poi però provando il campioncino indossandola non la trovo una fragranza molto originale un profumo alla vaniglia caramello c'è anche grandi caffè se non mi sbaglio caffè però il caffè non lo sento è una fragranza che vuole essere un profumo da indossare come inizio appunto di una giornata quindi anche un pochettino rinvigorente un pochettino con l'effetto sveglia del caffè però appunto io questa questa parte non la sento vado a riprendere un attimo il campioncino si è una vaniglia caramellata abbastanza boh la definirei classica potrebbe somigliare un pochettino alla vaniglia di erbolario non lo so insomma non mi ha convinto tanto anche se è la prima volta appunto che l'avevo spruzzato devo dire che mi era piaciuto è una vaniglia interessante però avrei voluto sentirci un po' di più la nota del caffè invece così non è vabbè la prova col campioncino è sempre una prova molto limitata però diciamo questo per il momento non lo comprerei vi consiglio di sentirlo perché magari appunto un profumo che può piacere perché è dolce ma non troppo un profumo secondo me appunto abbastanza semplice viene definito corposo e goloso anche un'arma di seduzione un caldo abbraccio non lo so io non lo sento neanche così particolarmente forte rispetto agli altri due che comunque si fanno sentire non lo so questa naturalmente è la mia opinione anche questo se vi capita qualche rivenditore eterea comunque sentitelo bene con la prima vaniglia del giorno concludiamo il video oggi vi ho presentato i profumi di eterea la vecchia collezione over the fragrances e la nuova collezione del 2024 con queste tre fragranze di cui tra l'altro si sta molto parlando anche sui vari canali social candidissimo skin care routine e questo first vaniglia of the day che forse è un po' almeno chiacchierato ma il motivo è un po' questo non si insomma non si evidenzia per la sua originalità le altre quattro fragranze dello scorso anno sono delle fragranze abbastanza semplici l'unica particolarmente complicata secondo me o comunque più particolare è sugar inside questo profumo che sa di latte ma un po' anche di crema è un profumo molto particolare un gourmand non gourmand che secondo me appunto deve trovare degli stimatori gli altri invece sono uno ai frutti di bosco uno alla vaniglia uno al tiaree sono dei profumi che hanno delle buone prestazioni molto piacevoli secondo me adatti insomma ad un largo pubblico bene ho concluso grazie per avermi seguito vi aspetto per un prossimo video ringrazio tutti vecchi nuovi iscritti tutti quelli che mi lasciano i commenti anche un saluto veramente mi riempie il cuore un bacio un abbraccio e ciao ciao con la manina alla prossima ciao